Salve ragazze, allora, video sulla costanza della settimana. Prima cosa, si dovrebbe aggiungere Simona, penso che già da questa settimana lei lo faccia e lo pubblichi, quindi la saluto e ovviamente saluto Elisa, l'inventrice, e Alestandra, che tra l'altro in questo momento mi è stato comunicato, vogliono la possibilità di utilizzare il Salve ragazze, quindi ecco, questo copyright adesso ci lavoreremo sopra. Scherzi a parte, ovviamente, insomma, le saluto, vi metto giù il link ai canali, so che c'è qualcun'altra che fa il video con noi, forse anche Valentina, non lo so se lo farà con costanza, comunque, insomma, in caso vi metto il link. Poi mi prendo la licenza poetica per dirvi che io questa settimana sono andata sotto proprio, come si dice a Roma, per una cosa, che è caffè gusto ginseng, 7,5 grammi. Allora, io ora vi faccio un discorso che se c'è una cultrice del caffè, una barista, qualcosa del genere, tappatevi le orecchie. Comunque, con questi 7,5 grammi io già vi dico che ci faccio due caffè, nel senso che due tazzine a me ci vengono tranquillamente. Ho capito che se ho la cialda da 5 non ce le posso fare, ma se ho la cialda da 7,5 ce la faccio. 7,7,5... insomma, va benissimo. Non ha marchio, cioè nel senso io l'acquisto alla casina del caffè, mi pare, si chiami così. E so che anche il sito, che tra l'altro nessuno mi ha pagato per, anzi, mi ha regalato in realtà 4 chicchi ricoperti di cioccolata, quindi sì, va, forse potrebbe essere considerato già un tentativo di estorsione di una buona recensione. Comunque io lo adoro. E a tutti questi caffè particolari, e la cosa particolare, cioè, tanto per ripetere particolare, che a me fa proprio impazzire è che quando dice ginseng, e poi la chiudo perché due minuti sul ginseng, non è ginseng come quello che si trova al bar, quindi che ne so che c'è... soia, latte in polvere, zucchero, nocciola, aroma, e bla bla bla. No, è caffè e ginseng. Se lo volete zuccherato, lo zuccherate, se ci volete il latte, ci mettete il latte, se no, questo è caffè amarissimo, perché è normale, un caffè amarissimo, normale, con il ginseng. Chiudo, giuro, chiudo, perdonatemi. Smalto, Naked True, adesso vado spedita perché Naked True, Avon, senza top coat, senza base, e questo è il risultato di una settimana. Io cerco di tenerli una settimana così ve li vedete proprio. Molto, molto rovinato qui, e qui che è la mano destra, quindi quella che utilizzo di più per fare le pulizie, cucinare e tutto il resto. Però comunque, insomma, dai, ci sta, ci può stare. Poi, se proprio non riesco a utilizzare, insomma, utilizzarlo per una settimana, vi faccio sapere. Passo molto veloce sulla base, perché ho già pubblicato il video sì, no e nì, e sono tutti prodotti, appunto, di base, e uno è il primo prodotto che ho utilizzato spesso in combo, ma anche da soli, sono i due correttori della Sobio. ho già detto tutto quello che devo dire in quel video, quindi magari vi rimando senza dovermi ripetere. Tra l'altro hanno anche la spugnetta, così, per direne una. e sempre, appunto, come base ho utilizzato questa qui, sporca, perché è bene, sì, della, sempre Sobio, a latte d'asina, che mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, non so se ve l'ho detto in quel video, ma comunque ho già fatto anche dei video, cioè feci, perché quelli sono un pochino più vecchi, dei video di spacchettamento, quindi vi faccio vedere gli inci, vi faccio vedere le diverse consistenze, diversi colori, però lì vi dico che quello del latte d'asino sono 40 ml, e questo invece sono 30, ed io ho alternato le due, questa è quella con, appunto, la texture leggera, e, vi dicevo appunto, 30 ml di prodotto, bah, vedetevi il video, che dire, vedetevi il video. e poi, invece, questo perché, non è che lo dovevo testare, ma lo volevo finire, tristezza proprio, è quello di Benecos, che inizia veramente a, eccolo, dare i suoi, i suoi ultimi colpi, questo l'ho acquistato ancora prima di, sapere della bioprofumeria, quindi, ha sicuramente i sei mesi indicati, di questo vi parlerò bene, perché merita, merita, insomma, non è coprentissimo, però, abbastanza coprente, merita, anche di questa, vi farò una recensione, vi sto facendo vedere tutti i prodotti, per la base, quindi, quando non ho usato i correttori, so vi ho utilizzato i correttori, il correttore bene, costa alternandolo, e, questa l'ho utilizzata, sempre come, cipria, io di questa vi feci già una recensione, nel Flat Perfection della neve, vi feci già una recensione, a fine estate, per parlarvi di, di come la stendevo, che il fatto che era un pochino polverosa, rimane essere, cioè, va presa in un certo modo, perché sennò vi fate i danni, ho detto all'epoca che l'amavo, e ripeto, mi piace tantissimo, e quindi vi voglio rifare una recensione, non tanto appunto, relativa alla sua stesura, e quanto altro, ma, sul suo utilizzo invernale, ecco, a volte si dice, vale quanto l'hai pagato, a me questa cosa mi è dispiaciuta, ora lo rincollo, per carità, però non è che io l'abbia lavato così tanto, da potersi rompere, e ce l'ho da dicembre, quindi sono tre mesi, lo utilizzo tanto, lo utilizzo tanto, è il mio pennello di fiducia, però, quello neve non me l'ho affatto, vabbè, comunque, per carità, poi si annaniziano polemiche, sterili, e lungi da me, comunque, 4,50 euro, me ne potevo comprarti tre, insomma, ho detto io romano, così, almeno ho i ricambi, e, e come primer, quando l'ho utilizzato, questo qui dell'Urban Decay, che voglio smaltire, ora qualcuno dirà, ma ci siamo noi, se non riesci a smaltire tutto, prima del passaggio al bio, già lo so, però, questo io vorrei smaltirlo, anche perché è scaduto, perché è scaduto, proprio in questa settimana, non che io abbia i giorni, in cui, però, potrebbe essere una bella cosa, mettere i propri giorni, sul calendario, quando scadono i trucchi, questa ora, la brevetto, ha quasi quanto il saluto, e, e ci penso, poi, continuiamo sempre con la base, così, almeno, ce la togliamo, e poi vi inizio a dire le cose più succose, su come ho incastrato i vari, i vari prodotti, questa, non finisce, questa l'ho utilizzata come terra, come blush, come, ombretto, come, per sfumare i colori, tra l'altro, non lo so, io voglio andare a vedere un video vecchio, dove dicevo, ah, ho fatto il buco, perché a me sembra che non si stia allargando, per nessun modo, e questo mi arriva a riconfermare, che se dovete prendere una terra, grandissima, con quelle di Debbie, lo dicevo anche ieri a, alle ragazze che ho visto, cioè, io sono preoccupatissima, quando vi vedo con queste terre, veramente, la mia non finisce, pensate quella, cioè, comunque, sempre lei, Avon, Medium, Riviera, un buon prodotto, però, ma che due palle, utilizza sempre la stessa cosa, cioè, non se ne esce, veramente non se ne esce, penso di aver finito, quello che ho utilizzato, ah, no, poi, vedete poi, che succede, niente una tortura, comunque, a un certo punto, io non so come fa Alessandra, 18, 19 settimane, Lisa, 27, 18 barra 2, cioè, momenti epici, per me, comunque, l'altra cosa che ho utilizzato sempre, è stato, l'eyeliner, è questo qui di Wagon, perché mi è presa la frenesia, lo dovevo finire, perché mi sono innamorata di un altro eyeliner, bio, dico la verità, non nero, quindi direte voi, questo è nero, chi se ne frega, tra l'altro, ve l'avevo anche già svuocciato, a parte che mi sembra che, rispetto a quando l'ho aperto, già perda in scrivente, cioè, mi sembra un po' meno nero, quindi mi sembra che scrive anche un po' meno sugli, sugli ombretti, ora mi piace tanto, nel senso che la punta è ben gestibile, è velocissimo utilizzare, io addirittura, a parte che già di mio non le utilizzo con due mani le cose, però, cioè, non mi tiro la palpebra, non faccio niente, prendo, anche senza poggiare il gomito, e tiro la riga, e va benissimo, quindi, io lo consiglio soprattutto alle ragazze che non sanno utilizzare l'eyeliner, e lo voglio finire, perché ho trovato un marchio che mi fa impazzire sugli eyeliner, e quindi, a questo punto passo al bio anche su questo, insomma, e basta, abbiamo finito? Sì, quindi quello che ho sempre utilizzato abbiamo finito, i mascara li ho soltanto alternati, questo qui di Too Faced, che veramente un giorno ha tirato fuori un mega agglomerato di fibre, quindi temo che stia finendo, questo qui a me piace tanto ragazzi, comunque, cioè se avete dei soldi da spendere per il mascara, cercate un buon mascara, questo, dopodiché tanti soldi, spendeteli per un buon struccante, oppure optate per l'olio di cocco, perché quello è una di quelle cose che per struccarlo, ahimè, e questo, come vedete, si è già addensato, è il Super Shock Max di Avon, questo qui, ah, eccolo, stavo cercando una cosa che ho tolto, perché l'utilizzo sempre, come emoliente labbra, sempre, sempre, solo lui, perché costa sangue di drago, e quindi, altro che burro di cacao, io me lo finisco, ok, bene, iniziamo con gli incroci, eh, mancava una cosa, eh, sì, mancava una cosa, qui ora direte tutti, wow, però, ve la faccio vedere lo stesso, allora, un giorno, ho utilizzato, no, ho fatto un make up, con questi due, tra l'altro, l'ho anche postato su, su Instagram, eh, ed erano, appunto, sono, anzi, sono, i, eh, pigmenti di Kiko, allora, sotto al pigmento, sono andata a mettere il 42, che è Long Lasting, questo qui, sempre, eh, Kiko, eh, che io ho preso, per utilizzare, sotto la Naked, in teoria, in pratica, sto, eh, utilizzandolo moltissimo, da solo, e anche sotto altri, altri tipi di make up, pochissimo, sotto la Naked, e la cosa più preoccupante, è che io ho preso anche questo, da utilizzare sotto la Naked, e questo, essendo lo stesso colore, della Wicon, eh, mi rendo conto, che tenendolo così, io ritengo così, questi, non lo prendo mai, perché penso sempre sia quello di Wicon, cioè, incredibile, veramente, la psico umane, comunque, l'ho utilizzato, con questo, e, eh, ora vi faccio vedere, quindi, come matita nera, sempre solo, la Sephora, che però, ragazzi, ora vado a dar via, perché guardate quanto è diventata piccolina, rispetto anche a, ecco, tanto rispetto a che, rispetto a, la paletta Naked, che abbiamo tutte, più o meno tutte, cioè, eccola qui, aspetta, sto barando, perché qui c'è la punta, ok, quindi non, non si riesce proprio più a gestire, eh, comunque ho utilizzato questa come matita nera, l'eyeliner che vi ho detto, vi ho fatto vedere, eh, e alla fine dell'occhio, come base ho utilizzato la marrone, sempre Sephora, sempre la stessa, anche lei piccolissima, e poi sopra, insomma, sia sopra al, eh, il long lasting, sia sopra, eh, la matita nera, marrone, sono andata poi a utilizzare, ah, perché non si vede il colore, più o meno, ok, questo è della collezione limitata, il 31, e questo, non mi chiedete quale collezione limitata, perché non lo saprò mai, e questo è il numero 12, bellissimo questo di pigmento, ragazze, veramente, volevo vedere se, no, scusate, era una prova così, ehm, mi è piaciuta tanto, questo tipo di trucco, però mi rendo conto che, sfuma, sfuma, a parte ci vuole tanto tempo, però, non lo so, non li ci trovo, non mi sembra, mi appesantisca un po' la palpebra, e non sono più una giovincella, quindi, boh, peccato, e, eh, come, rossetto, sono andata a mettere, invidia di neve, eh, che ormai io metto, vedete, stra, già, si vede quando, si consumano le cose, eh, l'ho messa, come contorno labbra, e poi l'ho, un pochino sfumata verso l'interno, e sopra tutte le labbra, sono andata a mettere, Avon Orchid, questo qui, carino ragazza, alla fine lo sto strautilizzando, pazzesco, vi ricordate che vi avevo detto, mmm, non so se lo utilizzerò, perché è molto sheer, ecco, no, lo sto strautilizzando, mi piace, quindi, questa la mettiamo a posto, eh, questo, è stato un tipo di trucco, e come blush, ho utilizzato, questo qui, che è sempre lui, della bottega verde, terra di siena, l'incubo proprio, veramente, un incubo, come illuminante, non ve l'ho detto, ma l'illuminante, di fiducia, di questo proprio periodo, forse più che, sì, di questo periodo in generale, è plastic, questo qui, a me piace tantissimo ragazzi, è un illuminante favoloso, secondo me, ha proprio quella, infatti c'è il buco, cioè, c'è la conca, più che il buco, bellissimo, bellissimo, sfumabilissimo, discreto anche per il giorno, a me è proprio, eccolo qui, piace tanto, e lo vado a sfumare così, eccolo qua, fantastico, quindi, quello è stato, un tipo di, di make up, poi, un altro tipo di make up, è stato, e ora qui, ci sarà il, il boato, anche se di tre persone, sarà comunque un boato per me, perché, ho utilizzato, bubble gum, di neve, che ha un blush, con i glitter, cioè, non ve lo swatcho, perché se non finisce, finisce male, già lo so, che tra l'altro, mi si era anche rovesciato, infatti vedete, il prodotto è quasi tutto fuori, vi faccio vedere il nome, comunque, e, allora, quando lo mettete, poi non si notano tantissimi glitter, a tal punto che, insomma, nessuno mi ha detto, ma che te sei messa sul viso, e mi è piaciuto, quindi, io, io rifletterò ora, in silenzio, ma rifletterò, e, quando ho utilizzato quello, ho utilizzato, sull'occhio, questo qui di Wicon, lo 04, come base, e mi piace molto, per il bello, tra i belli, è vero, bisogna essere onesti, quando, quando succedono queste cose, bisogna dirle, che è questo qui, no, non si vede, mi è peggiorata la risoluzione, quando ho tirato fuori la naked, non so perché, comunque, è Black Heart, che è questo, bellissimo nero, con i riflessi, che poi non è proprio nero, è un more, non lo so ragazzi, è un more, si da diciamo, con i riflessi fucsi e dorati, cioè, fantastico, che ho utilizzato, alla fine dell'occhio, diciamo, verso l'interno, invece ho utilizzato Dark Side, di giorno, ci tengo a dirlo, e Nooner, come al solito, come ombretto, di transizione, quando non ho utilizzato, la terra, e vabbè, diciamo, di che stiamo parlando, ok, e, quindi, il blush, ho utilizzato quello, e, come matita, so che, da raccontare, può sembrare, che non c'entra niente, però, a me ragazzi, poi quando lo sono andata a mettere, mi è piaciuta, perché per me questa, che è Amore, che è questa qui, è diventata il mio, tra virgolette, nude, non nude, nel senso che, non è nude per le mie, per le mie labbra, però, non, non stacca mai troppo, è, è carina, cioè, a me piace proprio tanto, con un po' di contouring, mi sta bene, quindi, e poi mi dura tanto, cioè, quando torno a casa, e magari, mi vado a struccare, anche se ho mangiato, non ho stata fuori, non c'è mai, quella cosa di dire, ah ok, non ce l'ho più, completamente, perché non, non arrivo mai, con le mie labbra, eh, completamente, eh, non colorate, ecco, diciamo così, poi, ehm, un'altra volta, un'altra volta, eh, ho, eh, utilizzato, soltanto, ehm, praticamente, questa matita, con, eh, che è la Mineral Green, la 09, di Wicon, molto bella, veramente molto bella, ragazze, Wicon, sono contenta, ehm, che si sono accorti, Wicon, perché comunque, io, lo sapete, chi mi segue da tanto tempo, lo so, da tanto tempo, da quando ho il canale, quindi da maggio, giugno, quando era, lo sa, io, ehm, parlavo benissimo di Wicon, ancora prima che ci fosse il boom, e l'ho utilizzata soltanto, con Strange, e Limit, ehm, insomma, perché dà quella cosa particolare all'occhio, che, che non fa mai male, e a volte l'ho utilizzata anche, eh, con Blackout, quindi, eh, tutto scuro, però, dentro, appunto, dentro l'occhio l'ho, no, Blackheart, Blackout, Blackheart, comunque tutto, scusate, eh, tutto scuro, e quella comunque, luminosa, tanto più che ho una sciarpa dello stesso colore, quindi, quella sciarpa mi salva sempre e comunque, ehm, per quanto riguarda i nude, i miei nude di fiducia sono stati fatti, con lei, tra l'altro vi volevo fare, vi volevo parlare di pennelli, poi, ne parleremo, e, eh, Foxy, eh, Foxy, Tease, e, diciamo, a volte basta, è proprio, non gli piace proprio la Naked, ho scoperto questa cosa, e, e invece altre volte aggiungevo pisto, e ora qui ci si sbizzarrisce, perché io sto per dire una cosa che, farà rabbrividire molte, eh, quindi, quando utilizzavo questi tipi di nude, a volte mi è capitato di utilizzare questo qui, che è un matitone Wicon, che a me era stato regalato, non da Wicon, lo ripeto, perché non si sa mai di questi tempi, lo 07, che mi sembra, mi sembra, e ora che lo riswatch mi risembra, leggermente simile a, eh, il Mac, All Fired Up, qualcosa del genere, quello che, hanno tutte, praticamente, perché è uno dei più belli, secondo me, effettivamente, eh, lo voglio vedere vicino a qualcuno che c'è là, quindi la prossima volta dirò a Eleonora di portarlo, e, quindi, quando volevo andare sul colorato, utilizzavo quello, mentre quando volevo andare sul nude, e ve ne parlerò per bene, comunque, ci tengo a farvi vedere quanto è utilizzato, lui, me l'hanno mandato, non in regalo, cioè in prova, diciamo in prova, eh, Labo, Dove stai? Ok, eccolo qua, il packaging carinissimo, costo contenuto, sì, sì, ed è il 306, poi però ve lo faccio vedere, di questo ne parliamo un calmo, intanto ve lo swatcho, dove ve lo swatcho? Qui, però ve lo voglio far vedere sulle labbra, questo, questo è il colore, ma ve lo voglio far vedere sulle labbra, e anzi, se vi fa piacere, possiamo fare anche un test di durata, mi sbilancio così, eh, tanto per, e vabbè, il mio amatissimo, e di questo anche ne parleremo con calma, Avril, terracotta, questo è il colore, niente da dire su questo, niente, veramente niente da dire, e, questi erano appunto gli usati, è ritornata via la luce, gli usati di questa settimana, risaluto tutte, saluto anche tutte voi, come sempre, se avete utilizzato qualcosa, qualcuna che si, eh, che mi ha detto che faceva anche lei il video, insomma, fatemelo sapere qui sotto, e poi io, vi rimando sempre a Elisa o Alessandra, perché, io mi sono aggiunta dopo, quindi, Elisa è l'inventrice, ed è giusto che, eh, con lei, io, beceramente aggiunta dopo, eh, detto ciò, come vedete, stiamo cambiando insieme, pian piano, i prodotti da utilizzare, e, fatemi sapere, che cosa vi piace, cosa vi interessa, che tipo di video, biologici, vi possono interessare, ciao ragazze, grazie a tutti,